Da mercoledì 10 giugno ogni mercoledì e ogni venerdì cittadini e cittadine stanno vivendo il centro storico Ravennata nelle ore più fresche della giornata, quelle serali, per concedersi una passeggiata in compagnia in spensieratezza con la possibilità di fare shopping con più calma rispetto alle ore diurne e per fare anche un po' di chiacchiere con i negozianti tra un acquisto e l'altro. Ravenna Bella di Sera sta continuando, abbiamo riscontrato soddisfazione da parte degli esercenti, in particolare di via Diaz e di via Cairoli, per l'apertura serale delle attività in estate. L'apertura serale del venerdì è ormai una tradizione della città, credo che siano quest'anno 27 anni che tutti i venerdì sera siamo aperti. Dopo il lockdown abbiamo deciso insieme all'amministrazione di tenere aperte un'altra giornata, il mercoledì sera e devo dire che sicuramente ha contribuito a vivacizzare, animare la città e anche se con qualche ombra, per esempio il mercoledì ancora secondo noi non è, forse perché all'inizio non è ancora decollato a sufficienza, mentre il venerdì devo dire che insomma sta andando abbastanza bene. Quindi seguono un po' le abitudini comunque. Seguono un po' le abitudini, bravo esattamente, seguono un po' le abitudini, ma adesso ci stiamo lavorando e io penso che anche il mercoledì diventerà un buon giorno, lo è già abbastanza per tutti gli ristoranti, esercizi pubblici e anche per noi commercianti, insomma per ora il nostro è un po' un servizio, il mercoledì più che un business come si dice, perché siamo aperti ma non è che ci sia tantissima gente, ancora non è ben conosciuta questa, però adesso so che ci saranno delle manifestazioni, fino adesso non ci sono stati eventi, manifestazioni eccetera, adesso ci saranno quindi siamo fiduciosi. Qual è la situazione delle aperture serali? I clienti vengono, c'è una differenza rispetto al giorno? I clienti sono in parte diversi perché sono clienti che magari appunto di giorno non riuscirebbero a venire e sono contenti di trovarci aperte e soprattutto sono clienti che hanno un po' più di tempo, quindi hanno tempo per chiacchierare, per poter sfogliare i libri e per poter scegliere con più calma, quindi da questo punto di vista ha assolutamente senso. E poi appunto il mercoledì pensavo assolutamente che non fosse un'apertura difficile e non lo è come, cioè non è così negativo come pensavo, anzi le persone vengono quindi alla fine anche se si arriva a casa un po' stanchi per ora ha avuto senso. C'è del passeggio, della vendita che incoraggia? Sì, c'è più movimento rispetto alla giornata, soprattutto al pomeriggio di sera, diciamo gira più famiglie e più gente. In qualche modo ci vuoleva, soprattutto dopo il lockdown? Certo, il problema è che non tutti i nostri colleghi rimangono aperti, quindi questo purtroppo penalizza un po' tutto, ecco. Facendo anche pubblicità per le grandi aperture serali, poi tanta gente ultimamente si è un po' ritirata, diciamo così, quindi... Noi siamo molto contenti per quello che concerne le aperture del mercoledì sera e del venerdì sera, auspichiamo che continui così tutta l'estate perché comunque di passeggio ce n'è tanto e vedo che i nostri clienti sono molto contenti di trovarci anche la sera in modo da poter fare una passeggiata anche con un pochino più di fresco. Attualmente quello che ho riscontrato per quel che riguarda la mia tipologia di attività è un passeggio maggiore il mercoledì sera, anche se comunque confrontandomi con altri commercianti per loro si parlava del venerdì, quindi forse dipende anche un po' dalle categorie merceologiche, questo non mi è molto chiaro, però io sono molto contenta sia del mercoledì che del venerdì più del mercoledì attualmente. Personalmente credo che questa sia una grandissima opportunità, nel senso che Ravenna è comunque una città di mare e tutte le città di mare comunque la sera sono sempre aperte, quindi secondo me tenere questa chiusura forzata durante l'estate può essere una sorta di anno a doppio taglio, è vero che magari ci si riposa un po' però è anche vero che si perde l'occasione. Quest'anno che comunque l'offerta del mare è sicuramente ridotta rispetto a quella che poteva essere un anno fa, ci sta facendo capire che abbiamo l'occasione di lavorare comunque bene e serenamente anche d'estate, magari scegliendo degli orari anche un pochino più freschi. Io ad esempio ho spostato l'apertura alle 17.30 nelle giornate del mercoledì e il venerdì proprio per tagliare via la fascia più calda dell'apertura. Siamo contenti, c'è movimento, soprattutto il venerdì rispetto al mercoledì, però comunque è molto positivo per i negozianti del centro. Tra i prodotti acquistati maggiormente? Sicuramente le nostre mascherine made in Ravenna in cotone doppio con la fessura per poter inserire il filtro, è il prodotto che piace di più perché ha un acquisto veloce e magari anche per una passeggiata uno si concede volentieri un regalino.